Vi mostro oggi uno splendido abito gessato su base blu. La curiga di un celeste un pochino chiaro non è continua ma è leggermente tratteggiata che secondo me è un elemento che certamente valorizza e come dire alleggerisce il capo. L'abbinamento è stato fatto con questa bella camicia in spinata celeste e questa cravatta che è un bel verde acqua con un po' di doppio colore che secondo me spezza ed è un elemento di divertimento rispetto a quello che è un abito raffinato, divertente ma anche un po' serio. Spero che il video e che l'abito vi sia piaciuto. Ci vediamo da Dazzardo.